Musica Durante la conferenza stampa di ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente Mario Draghi ha elencato gli ultimi provvedimenti decisi per evitare ulteriori rincari legati alla crisi economica e alla guerra in Ucraina. Ecco le sue parole. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato provvedimenti urgenti per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare la capacità produttiva delle imprese davanti ai rincari energetici. Proroghiamo anche per il prossimo trimestre l'azzeramento degli oneri generali di sistema per famiglie, negozi, piccole imprese e abbattiamo l'IVA e poi rafforziamo anche il bonus sociale. Interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale con la concessione di prestiti alle imprese del settore. E poi abbiamo approvato l'assestamento di bilancio per l'anno 2022. Voglio sottolineare che questi provvedimenti dovevano necessariamente essere attuati oggi. L'assestamento di bilancio deve essere approvato entro oggi e il terzo trimestre per le bollette comincia domani. Quindi in mancanza di questa approvazione ci sarebbe stato un disastro. È stata approvata la nuova normativa per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dal Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro al chiuso e non solo. Il nuovo protocollo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sarà in vigore a partire dal 1 luglio 2022 e tra le varie misure le principali riguardano l'uso delle mascherine FFP2 consigliato nei contesti più a rischio come i luoghi di lavoro al chiuso e lo smart working, fortemente consigliato a partire dai più fragili. Le nuove regole per contrastare il coronavirus vengono quindi aggiornate e snellite. All'interno del documento si trovano tutte le linee guida per aiutare imprese e lavoratori ad adottare i protocolli di sicurezza anticontagio. Tali normative saranno valide almeno fino al 31 ottobre 2022. Per sabato 2 luglio sono previste temperature da record. Le città nel mirino di questa prossima ondata di calore saranno ben 22, inevitabilmente da bollino rosso. A dare la notizia il Ministero della Salute attraverso il bollettino sulle ondate di calore dove sono elencati i 22 centri urbani colpiti dal bollino rosso con rischio caldo per l'intera popolazione, non solo per le fasce più deboli. Tra loro anche Roma, Bari, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Un record mai raggiunto quest'anno. Tra le città in condizioni di preallerta da bollino giallo ci sono invece Torino, Venezia e Genova, almeno fino a sabato, mentre Milano e Verona dal 2 luglio diventeranno arancioni. La casa farmaceutica Pfizer e l'azienda partner BioNTech stanno lavorando a un nuovo vaccino anti-Covid che dovrebbe proteggere da un'ampia varietà di coronavirus. I test sugli esseri umani in forma BioNTech inizieranno nella seconda metà dell'anno. Questo farmaco, attualmente in fase sperimentale, sarebbe progettato per coprire varianti presenti e future. L'obiettivo dell'azienda farmaceutica è fornire quindi una protezione duratura dalle varianti. L'azienda farmaceutica è fornire quindi una protezione duratura dalle varianti. Grazie. Grazie.